Ciao ragazzi, siamo live ragazzi, siamo a Tel Aviv, dalla nostra postazione, siamo a metà quasi esibizioni Ma dici pure chi siamo? Siamo Federico, Flavio, Romano, c'è Giorgio, c'è Claudio, c'è Luca, guarda, c'è Luca Romani Tutto quello che avete visto su Rai 1 Prima, il filmato dove sembriamo anche di cardinette simpatici E' colpa sua! Ed è scritto da questi altri signori qua Ma pensato da loro, facciamo finta di... Si vede qualcosa? Guarda, lì c'è Barra Faeli che sta aspettando il suo turno La vedi? Si, piccola Faeli Lì, lì, eccola lì, eccola la in fondo, si vede questa qua, piccolina, vedete? C'è piccolina, non è esatto, è un metro e novanta E lei, eccola, si, 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 è questa qua, questa qua Eccola là, aspettando di rientrare in diretta Che tempo fa a Roma? Che tempo fa? Qui dentro non hanno vie di mezzo, o mille gradi oppure l'aria condizionata Aspetta che faccio una foto a Barra Faeli Faccio una foto a Barra Faeli, permettetemi Chi vogliamo salutare? Eh? Avanti che torniamo dopo Torniamo tra poco, torniamo tra... Ah, certo! A me piace stare in collegamento, mi diverto anche molto qua E, naturalmente, stiamo aspettando Alessandro, cioè Mammut Aspettiamo Madonna, la gara è nel vivo L'esibizione dell'Australia Rimanete con noi, collegatevi, se riusciamo ci ricolleghiamo Perché si preparano, è una roba che non ci si vede L'abbiamo visto ieri È una roba... Vi facciamo vedere come funziona Vi facciamo vedere Non esiste la magia, c'è sempre il trucco Parole forti, questo è... A dopo, a dopo A dopo, a dopo